Applausi per l'Istria Croata nell'Euroregione. Oggi a Parenzo è stata avviata la procedura che porterà presto la regione istriana della Repubblica Croata a far parte di questa aggregazione, il cosiddetto JECT senza confini, fondato nel 2012 da Veneto, Friuli Venezia Giulia e dal land austriaco della Carinzia. È molto importante l'adesione della regione istriana, lo abbiamo detto convintamente, perché riteniamo che attraverso lo strumento del JECT si possano davvero realizzare quelle forme di integrazione per cui è nata l'Europa. Nell'assemblea tenutasi stamane nella città turistica costiera, i presidenti Luca Zaia, Deborah Serracchiani e Peter Kaiser hanno dato l'assenso all'ingresso nel gruppo, dando il via libera così alle ultime formalità burocratiche. Una decisione assunta all'unanimità dopo aver sentito il presidente della regione istriana, Walter Fuego, che ha ricordato la proficua e pluriennare cooperazione fondata sui principi di stima e intesa reciproca tra questi territori. L'ingresso dell'Istria nell'Euroregione è la realizzazione di un sogno per il presidente del Veneto Zaia, un progetto che si allarga sempre di più e che va a confermare che abbiamo lo stesso mare, ha detto Zaia, e la stessa storia. Oggi abbiamo costruito un pezzo importante della nostra storia, abbiamo messo insieme le nostre regioni e anche l'avvio del procedimento di adesione all'Euroregio da parte della regione istria è per noi straordinariamente importante. Abbiamo voluto farlo tra l'altro nel giorno in cui l'Europa festeggia in modo importante e necessario la propria affermazione. L'obiettivo del coinvolgimento dell'Istria è quello di alimentare la cooperazione tra territori limitrofi e chissà che finalmente non ne possa scaturire anche una proposta turistica complessiva per conquistare i mercati globali combinando il mare istriano e le sue perle come rovigno a Trieste, città di cultura mittele europea, alla bellezza intramontabile e unica di Venezia.